Differente marche di autos hanno sviluppato autos che vanno senza chauffeur. Audi, Mercedes, BMW e Volvo, tutti hanno sviluppato gli autos che hanno sviluppato il bambino. Engaggiata al sviluppo di quelli autos è la firma Google. E' la una auto che funziona senza chauffeur. Per parte di quelli autos hanno fatto mille di chilometri di test in tutte le situazioni. E' la marca, se l'autostrada è scissata in una pista di corso. Quali autos detestano, vengi mani già, è da persone giocche, né da persone gassi in un cilio che vuole con un'auto. I autos hanno una specie di intelligenza. E' la cosa che si chiama in tonnelli, reagisce in quella. E' come un dato che vanno senza chauffeur. E' come un'entrenza o prende quel davantiere, i autos vanno sempre più sui, con una distanza di attività. E' come le diverse marce si integrava in loro autos, il porto automaticamente. La gestione, se non ci sono più nuove, il porto di autos per tutti. E' il porto automatico, se ci sono i interpi, e poi ampliare le marce di autos si integrava in loro autos. Grazie.